Beppe Cormio, 10 partite su 10 nel campionato, vi presentate con un buon biglietto da visita al Mondiale per il club. Lì servirà poco aver vinto 10 partite, quelle servono per la classifica del campionato, per quanto riguarda il Mondiale abbiamo bisogno di giocare bene, di un po' di forma, ho visto che qualche giocatore ha qualche problema fisico e chiaramente un po' ci preoccupa e speriamo in questi giorni, non so come, di recuperare qualcosa, anche perché poi lo stesso viaggio è un viaggio lunghissimo, quindi non favorirà quei dolori di schiena che hanno caratterizzato la prestazione di qualche giocatore stasera, però insomma per le 10 vittorie e soprattutto per i 32 punti in classifica siamo molto soddisfatti. Una lube in crescita, una lube che cambia uomini, che cambia giocatori ma va dritta verso l'obiettivo finale. 29 punti in classifica comunque, no 32, scusa la domanda, 29 punti in classifica, una lube che raggiunge questo obiettivo anche cambiando giocatori costantemente perché non ci sono solo problemi fisici ma avete una lunghissima rostra, una lunghissima panchina. Sì, questo è chiaramente, sapevamo di dover affrontare tutte queste competizioni in un periodo così breve per cui la squadra è attrezzata per giocare anche con quasi un secondo sestetto che comunque a mio avviso ben figurerebbe nel nostro campionato, quindi per ogni ruolo siamo molto coperti e molto sereni, molto tranquilli, però poi ci sono dei momenti in cui non basta neanche quello, quindi cerchiamo di recuperare i giocatori e soprattutto abbiamo avuto senz'altro oggi la prova che ad esempio Bienek è il gioiello che conoscevamo e quello si sarà, se capiterà questo dipenderà dall'allenatore, sarà piacevole vedere in campo contemporaneamente Simone e Bienek sarà una bella coppia di giocatori anche se mi sembra che stasera Anzani abbia giocato veramente una gran bella partita. Non vorresti essere nei panni dell'allenatore per indicare il sestetto che dovrà scendere in campo nel Mondiale? Beh sai questo è il suo mestiere, quindi lo deve fare, deve scegliere, tante volte ci penso che è complicato fare delle scelte ma alla fine questa è una squadra che ha forza di gruppo quindi non vedo persone deluse perché giocano meno, mi sembra che tutti possano stare in campo.